Nell'ultima gara del 2018 contro il Messina di Mr. Furnari, i rossoneri regalano al presidente Di Diego tre punti d'oro che valgono la terza posizione in classifica in condominio con la Nocerina. In uno stadio privo dei colori e delle coreografie della curva, ancora tristamente vuota per via della protesta degli Ultras non ancora rientrata, alle 14.32 in punto il signore Vogliaccio di Bari dà inizio alle ostilità. Le prime tre occasioni della match sono a firma puntoriere, al quarto minuto su calcio di punizione la palla finisce alta sulla traversa, al ventesimo su preciso assist di Lavrendi, il migliore in campo dei rossoneri non aggancia per questione di centimetri. E poi al ventisettesimo la girata di testa del bomber rossonero trova pronto alla parata Paterniti. Al trentesimo Canale va via sulla sinistra, mette in mezzo un pallone prezioso per Furgione che non dà forza al colpo di testa, para a terra Paterniti. Al trentaquattresimo la prima azione dei siciliani, bombaro per Fragapane, cross in mezzo per Cangemi, anticipato da Grimaldi. A quarantaquattresimo rossoneri ancora pericolosi, Canale prova l'imbucata, la respinta di Paterniti finisce sul piede di Ielo che a porta vuota tira alto sulla traversa. A quarantottesimo il Castrovilla ripassa, ripartenza micidiale dei rossoneri con Lavrendi che si porta a spasso mezza squadra ospite, scarico per Canale che di prima serve Enni, nel numero 9 si porta il pallone sul destro. Lascia partire una sassata che non dà scampo a Paterniti. Vantaggio meritatissimo per i lupi che vanno al riposo in vantaggio di un gol. Nella seconda parte della gara il Castrovillari al primo minuto ha l'occasione per chiudere il match. Il destro di Forgione trova pronto il numero uno siciliano che si salva in angolo. Sono le prove generali per il raddoppio rosso-nero. All'ottavo ancora lui, Cocchi Forgione, conclude un'azione iniziata da Michele Canale. La palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce Enin che la rimette in mezzo. Il numero 29 rosso-nero ha un arresto perfetto, carica il destro e fulmina il portiere siciliano. Il Castrovillari è padrone del campo e il Messina subisce il contraccolpo psicologico al raddoppio rosso-nero. Il Messina lascia spazio infinito alle ripartenze rosso-nere. Enin vola sulla destra e mette in mezzo per Jelo che manca l'impatto col pallone di un soffio. Al dodicesimo ancora Enin si trova la palla sul destro, il tiro è perentorio. La traversa dice no al numero 9 rosso-nero. Al ventesimo Lavrendi brucia nello scatto Silvestri, scarico per Puntoriere che tira a colpo sicuro. Si salva in angolo, paterniti. Al ventiuesimo Jelo cerca in area Puntoriere. Non è preciso il primo controllo del numero 91. Si salva il portiere siciliano. Al ventiquattresimo ancora Puntoriere ha sul destro la palla buona. Il tiro finisce di poco a lato. Al trentaduesimo Canale, tra i migliori nel secondo tempo in quota rosso-nera, cambia passo in area siciliana, bombarra lo stand e l'arbitro non ha dubbio e indica il dischetto. Agli undici metri lo specialista Puntoriere non sbaglia, palla da una parte, portiere dall'altra. Il Castrovilla ricala il Triss ed il Messina scompare. Al trentanovesimo la reazione degli isolani con Princi, il destro a giro, trova pronto Galluzzo che con un colpo di reni si salva in angolo. Al quarantaquattresimo l'ultima azione degna di nota per i padroni di casa. Fioretti subentrato a Puntoriere riceve da uno spumeggiante Eni nel tiro del numero 10, non trova la porta. Poi più niente applausi a Gogo dalla tribuna per i Lupi, autori di una gara esemplare. Sono una squadra di giovani che sta facendo miracoli la sua. Il posto in classifica prima di questa partita era al ridosso delle migliori. Sì, diciamo che dopo un inizio di assestamento per la categoria abbiamo fatto bene. Abbiamo sì giovani, ma sono già i giovani validi che hanno pagato lo scotto del passaggio dall'eccellenza alla Serie D. Naturalmente oggi abbiamo fatto un notevole passo indietro e questo può essere preoccupante perché la classifica così corta, sì, con due vittorie di porta, essere, come ha detto lei, al ridosso, però siamo sempre a un punto dei play-out. Quindi sostanzialmente ci vuole continuità e quindi ci vuole sempre quella voglia e quella determinazione di portare i risultati a casa che oggi sicuramente non abbiamo avuto. Mister, in assoluto la migliore partita del Castrovillari sul terreno amico? Per il risultato sì sicuramente, ma abbiamo giocato in più rispetto alle altre partite tipo Oce Reale, tipo Rocella, magari abbiamo realizzato anche oggi minor parte di quello che si era creato, però va bene così nel senso che finalmente... E dopo la cosa più importante, a mio avviso, non abbiamo subito quasi nulla, non abbiamo rischiato mai di prendere il gol, quindi questa è una cosa positiva. Ma si può fare a meno in questo campo del tifo organizzato, della curva? Cioè, come si può fare? Eh beh, questo non è calcio, a mio avviso. La curva è il sale del calcio, cioè sembra di essere, come dicevo mio ex allenatore, Marcello Basquini sembra di essere in una chiesa, cioè si esulta soltanto quando si segna o si sente qualcuno che si lamenta per qualche giocata così e così. Purtroppo questo bisogna chiederlo a loro, a noi ci mancano, come squadra ci mancano, perché non è una frase fatta, sono il dodicesimo uomo in campo per noi, in casa e fuori casa. Quindi è una situazione che a noi non ci fa sicuramente bene. Ma guarda, di questo anche parlavamo prima, è davvero un peccato perché adesso la squadra sta facendo cose importanti, siamo una squadra giovane e siamo terzi attualmente, se non sbaglio. I terzi da neopromossi è davvero un traguardio in un campionato difficile come quello di quest'anno, è davvero un risultato importante. Sarebbe stato bello anche oggi andare lì e festeggiare, noi aspettiamo con anzi il loro ritorno. Sì, questo si deve risolvere assolutissimamente perché per noi i tifosi sono fondamentali, giocare senza è strano e fa male, quindi speriamo nei prossimi giorni si possa risolvere perché la domenica vogliamo giocare davanti ai nostri tifosi. Mi dispiace, speriamo che si risolva al più presto possibile questa cosa perché noi tifosi ci servono e ci aiuteranno a raggiungere i punti per questa classifica. E soprattutto sono contento per il gol ma per la prestazione perché è stata una risposta dopo Messina che abbiamo giocato in un campo al limite della praticabilità. Sono contento per questa prestazione dei ragazzi, dei miei compagni di squadra, di tutti, sono contento veramente. A chi dedichiamo questo gol? L'idea di come mia moglie e mio figlio che sono a casa da 3-4 giorni, quindi ora non vedo l'ora di vederli e quindi passare del Natale con loro. Grazie. Grazie. Grazie.